Chimica organica La chimica organica si occupa dello studio dei composti che il carbonio forma con l'idrogeno, spesso in associazione con ossigeno, azoto, fosforo, zolfo, alogeni e pochi altri elementi. Si tratta per lo più di composti molecolari che, pur nella loro grande varietà, sono accomunati da profonde analogie, derivanti in primo luogo dalla singolare capacità che hanno gli atomi di carbonio di unirsi tra loro a formare catene stabili. La base della chimica organica è la teoria strutturistica e tutti i composti organici vengono divisi in diverse famiglie in base alla loro struttura. I composti organici sono classificati secondo le loro proprietà fisiche e chimiche, infatti un particolare gruppo di proprietà è caratteristico di un dato tipo di struttura. Grazie. 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 Grazie.